Io non guardo al passato, io guardo il mio rapporto da qui in avanti, il calcio ha fatto i rapporti umani, i rapporti umani a volte ci sono tante situazioni piacevoli, spiacevoli, liti, gioie, quindi fa parte un po' della vita, non solo del calcio, questi rapporti qui, non mi faccio condizionare, io guardo il rapporto che creo io da qui in poi, quello che c'è stato dietro non mi appartiene, non voglio entrare nemmeno nel merito, perché poi bisogna conoscere le situazioni, io non mi interessa, mi serve promettere quello che ho sempre detto, io voglio accattivarmi la fiducia e la simpatia, la ragazza per le prestazioni che fa la squadra, dando un allenatore si viene riconosciuto per come gioca la squadra in campo, quindi stare al campo, le parole secondo me non sono tempo che trovano, poi sarò ingannevoli, quindi uno potrebbe dire tante cose, a me non mi piace promettere niente, io dico in campo, come ho detto prima che stare al procuratore per me deve essere un po' un biglietto a visita anche a livello di impatto con la tifoseria e con la piazza.